Carl Rossmann ha 16 anni e ha combinato un guaio. Ha messo in cinta la cameriera di casa. Per i genitori è un affronto insopportabile e quindi decidono di spedirlo lontano da casa. Quindi dall'Europa lo mandano verso l'America, dove forse ci sarà qualcuno ad accoglierlo. Questo è l'inizio di America di Franz Kafka. Quando arriva a New York, alla fine del viaggio con il transatlantico, Carl si accorge di aver dimenticato l'ombrello sulla nave. Questa è una cosa strana e quindi decide di tornare a recuperare l'ombrello. A quel punto incontra il fuochista, quello che metteva il carbone, quello che ha fatto andare avanti la nave attraverso l'oceano e cominciano a chiacchierare e il fuochista gli racconta di essere stato in qualche modo trattato ingiustamente e che vuole andare a protestare. Carl, che ha un forte senso della giustizia, decide di accompagnarlo e andare a parlare col capitano della nave per vedere di sistemare la situazione. E quando arriva nell'ufficio del capitano, trova suo zio, suo zio Jacob, che è diventato ricchissimo in America. A quel punto lo zio piglia il nostro caro Carl e lo porta a casa sua, che è una dimora ricchissima, splendida, dove Carl fa la vita del figlio dei ricchi. Impara a suonare il pianoforte, naturalmente impara l'inglese, impara ad andare a cavallo. Una specie di fiaba da un certo punto di vista. Però Carl evidentemente è inquieto e ha una strana tendenza a mettersi nei guai e comincia a diventare amico di due colleghi, di due altri uomini d'affari, amici dello zio, anche se è stato avvertito, attento, Carl, non metterti nei pasticci con queste persone. Chiaramente Carl decide di mettersi nei pasticci, va a casa di uno di questi due signori, che è un'altra villa molto grande, labirintica. Carl arriva in questa villa e diventa amico, fa amicizia, inizia a chiacchierare con la figlia Clara, ma a un certo punto si accorge che c'è qualcosa che non va, cerca di uscire, ma quella casa è un labirinto dal quale Carl fa fatica a tirarsi fuori. Passa la mezzanotte, ha disobbedito, arriva una missiva dello zio Jacob, Carl non può più tornare a casa, è stato cacciato da quel paradiso che ha trovato di ricchezza, di lusso, di intrattenimento, e quindi si trova in mezzo a una strada, come tanti emigrati che sono andati verso l'America e in mezzo a una strada che cosa si trova? Si trovano dei barboni, due barboni, due senza tetto, lui ne trova uno di origine francese che si chiama Delamarche e uno di origine irlandese che si chiama Robinson. Questi due vagabondi, che quasi sembrano delle anticipazioni dei vagabondi becchettiani, cominciano a sfruttarlo, a utilizzarlo perché gli vendono i vestiti, si fanno comprare da mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Carl si accorge che in realtà questi sono amici, ma fino a un certo punto. Però arriva un altro colpo di fortuna, perché arriva in un albergo, un albergo gigantesco, perché nell'immaginario di Franz Kafka, che in America non c'era mai stato, in America tutto è grande, tutto è meraviglioso, tutto è ricchissimo, c'è questo grandissimo albergo, hotel occidental, c'è una donna, che è una guardarobiera, che si occupa di una parte della struttura di questa gigantesca macchina che è l'albergo, che se ne prende cura e gli trova anche un lavoro. E Carl diventa il ragazzo dell'ascensore, quello che accompagna i clienti su e giù in questo grandissimo hotel. Sembra andare tutto bene, Carl ha qualche problema in realtà, perché dorme insieme agli altri ragazzi e fa fatica a trovare un equilibrio, insomma non è che lo trattino troppo bene. In realtà il vero problema arriva quando si ripresenta Robinson e comincia a rompergli le scatole, nascono tutta una serie di equivoci e alla fine Carl viene licenziato di nuovo. Un'altra caduta, un'altra uscita da un paradiso che sembrava aver trovato e che fa a questo punto. È costretto ad andare a vivere con Robinson, con Delamarche e con la padrona di casa, che è un personaggio assolutamente incredibile, straordinario, è una cantante, grassa, pigra, molto capricciosa, che si chiama Brunelda e Carl si ingegna, comincia a aiutarli, cerca di venirne a capo e in qualche modo si crea una piccola convivenza, ma che ovviamente non può durare. A questo punto il romanzo di Kafka finisce. Kafka ha scritto diversi romanzi, Il Castello e Il Processo sono i più famosi, ma non è mai riuscito a finirne neanche uno e così si conclude, resta sospeso anche America. Il libro era stato scritto nei primi anni del secolo, tra il 1911 e il 1914, è stato pubblicato come quasi tutte le opere postume da un amico molto caro di Kafka che si chiamava Max Brod nel 1927 e Brod ha scritto che Kafka avrebbe voluto far finire bene questa storia. Questo è un tipico romanzo di formazione, c'è un ragazzo che prende e affronta le difficoltà del mondo, come spesso in Kafka c'è sempre una caduta, cioè si viene espulsi da un luogo di felicità che in qualche modo non si merita, non ce la meritiamo, la felicità e quindi siamo destinati a essere dei vagabondi. C'è però una cosa, un capitolo finale, quello con cui si chiudono tante edizioni di America che è assolutamente geniale, perché a un certo punto Karl legge un manifestino che dice venite al Teatro Viaggiante di Oklahoma, vi daremo lavoro, vitto, alloggio a tutti. C'è questa grandissima fiumana di gente che va a farsi assumere da questo straordinario circo viaggiante di Oklahoma, che non sapremo mai che cos'è, perché Kafka non ce l'ha raccontato, doveva essere forse nella sua immaginazione una specie di grande circo Barnum che girava in quegli anni con tutte le grandi attrazioni da Buffalo Billa, gli indiani, eccetera, eccetera. C'è un grande specchio della società in tutti i suoi aspetti più avventurosi e forse è anche il Teatro Viaggiante di Oklahoma con cui si conclude America una prefigurazione della società dello spettacolo in cui siamo finiti tutti quanti, in cui viviamo tutti quanti, anche noi che raccontiamo storie come quella di America.